In gennaio son già qua e c'è l'abbonamento Rai Terzo appuntamento con la nostra rubrica a tu per tu con il consulente Il dottor Giuseppe Veneziano dai nostri studi chiude il ciclo dedicato all'Imu Dopo aver fornito ai telespettatori informazioni di carattere generale sulla nuova imposta sugli immobili ed essersi soffermato sugli aspetti tecnici del tributo La terza puntata della trasmissione è interamente dedicata alle risposte ai quesiti posti dai nostri telespettatori Molti fax e le email giunte in redazione che abbiamo inoltrato a dottor Veneziano La domanda più frequente qual è stata? La domanda più frequente è quella delle case date in modo gratuito ai figli Che succede? La domanda più frequente è quella dell'anziano che giustamente sta nelle case di cura della casa pertinenza, delle pertinenze in modo particolare Beh, devo dire onestamente che ci sarebbe da stare almeno un mese a parlare di tutti questi problemi Andiamo a analizzare i casi più importanti Quindi si ci trova l'anziano, si ci trova il disabile, si ci trova chi ha la casa diciamo incomodato Si ci trova chi ha la casa rovinata, abbandonata Si ci trova un po' tutti, ci trova un po' tutti Abbiamo cercato, cercheremo di dare la possibilità di far capire il messaggio in modo particolare E di vedersi rappresentato in questa categoria La nostra emittente ha un solo scopo, dare un servizio agente Darla più chiara possibile E invitare tutte a rivolgersi a professionisti qualificati Perché si possa essere aiutati Questo è quanto vogliamo, ci siamo prefissi, riteniamo che stiamo facendo Chiuso l'argomento IMU, gli altri due incontri che anticipano l'avvio della seconda stagione televisiva della trasmissione prevista in ottobre Affronteranno due temi importanti, il sistema pensionistico ed i servizi di previdenza sociale Ad illustrare i contenuti sarà il direttore provinciale dell'Inps di Agrigento, Gerlando Piro Ricordiamo quindi gli appuntamenti con a Tu per Tu con il consulente in onda domenica alle ore 16 Ed in replica è lunedì alle ore 19, il giovedì alle ore 23 e 10 ed il sabato alle ore 13 Successivamente sarà disponibile anche sul nostro portale web sigiliatv.org dove sono già visionabili le due puntate precedenti